Attenzione, Pjanic, Dani Alves e Iguain non arriva sul pallone, spettacolo Juve in questa circostanza Pjanic da posizione centrale sulla tre quarti, ha cercato Dani Alves a destra, lo ha pescato con un lancio perfetto Dani Alves è dato al volo di prima intenzione a mettere il cross verso il centro e poi Iguain ha cercato il tuffo di testa, non è arrivato sul pallone come avrebbe detto Bruno Pizzul, comunque tutto molto bello poi c'è un lancio completamente sbagliato in una zona del campo dove non ci sono giocatori del Monaco e dunque Buffon, maglia nera per lui questa sera, esce dai pali, blocca il pallone con i piedi e poi lo rimette in gioco Gigi Buffon, lo sapete, in carriera ha vinto praticamente tutto, gli manca soltanto una cosa la Champions League, la Coppa dei Campioni, questa naturalmente è un'occasione molto ghiotta ma ieri in conferenza stampa, attenzione intanto, proprio Buffon che va a respingere una conclusione di prima intenzione sul primo palo, a deviare una cross che arrivava da tre quarti reattivo Buffon nella respinta, stavamo parlando proprio di Gigi Buffon il quale ha sostanzialmente dichiarato di provare sempre una grande emozione nel giocare alla Champions nel naturalmente avere questo grande obiettivo ma ha anche detto che non è un'ossessione per lui il fatto di aver ancora vinto questa Coppa di avere comunque un approccio sereno alla partita Buffon intanto che continua ad essere reattivo Buffon decisivo su Mbappé, 0-0 il parziale pericoloso in questa circostanza, il giovane diciottene attaccante della formazione monegasca parte il cross verso il centro dell'area, Falcao, prova di testa Buffon ammazza parata difficile, magari non appariscente di Gigi Buffon sul colpo di testa di Radabel Falcao la palla è indirizzata sotto il sette alla destra del portiere italiano che ha allungato il palmo con un accenno di tuffo è riuscito a mettere il pallone oltre il fondo e quindi in calcio d'angolo seconda palata importante di Buffon che palla, che palla di Dybala per Dani Alves e Higuain ancora Dani Alves entra in rigore, due su di lui con il tacco, Higuain in tiro RATE! RATE! eccolo qui il gol di Higuain in Champions e va sotto la curva ad esultare come un pazzo perché la Juventus è in vantaggio ha segnato Gonzalo Higuain azione meravigliosa dai bianconeri bravissimo Dani Alves a toccare il pallone al limite della rigore dal limite la conclusione sul secondo palo dell'ancolino basso-destra di Gonzalo Higuain la palla in rete il Pipito mette il timbro e la Juventus è in vantaggio con il tacco con il tacco l'assist di Dani Alves per Higuain e poi con il piattone destro a mettere il pallone incrociarlo sul secondo palo esultanza pazzesca di Higuain scatenato Juventus 1 Monaco 0 si diceva che Higuain segnava poco in Champions eccolo qui il suo gol il quarto in questa edizione della Champions Monaco 0 Juventus 1 che roba ragazzi che gol che spettacolo adesso la Juventus deve concentrarsi deve difendere su questo corner dalla bandierina di sinistra parte la cross sul cuore dell'area di rigore col pretesto di un difensore pallone allontanato ma comunque fuori dall'area di rigore ancora per un altro tentativo di cross del Monaco la palla in mezzo Manzukic svetta allontana il pallone di testa poi Higuain protegge bene questo pallone dall'assalto di un avversario si trattava di Lemar Higuain riesce ad andare per di bala da questi a Dani Alves si sviluppa il contropiede la Juventus sul settore di destra con Marchisio che si avvicina all'area di rigore il cross verso il centro c'è di bala anticipato di testa e poi Subasic va ad anticipare anche l'uscita del pallone oltre il fondo e quindi va ad evitare il calcio d'angolo contropiede molto interessante della Juventus poteva forse essere gestito meglio ma recupera ancora il pallone di rigore Marchisio parte il tiro pallone respinto pallone respinto da Subasic questa era un'ottima occasione Marchisio forse poteva fare di più e attenzione perché subito dall'altra parte parte il contropiede Mappé hanno di rigore sulla sinistra parte il tiro respinto da Barzagli veramente intensa è combattuta la sfida in questa fase la Juventus quando può cerca di affondare il colpo per il 2-0 ma qui si è esposta la ripartenza rapidissima del Monaco del resto questa è una delle caratteristiche pregianti della squadra monegasca qui Barzagli è stato veramente molto bravo secondo me non altrettanto Marchisio perché quel contropiede quell'azione poteva essere sfruttata meglio Marchisio ha cercato un tiro che non gli è venuto irresistibile e poi ho un quiz per voi premessa ragazzi il calcio per noi è allegria ok ci si può scherzare ridiamoci prendiamo in giro io Pacchioni lo facciamo sempre è arrivato il seguente messaggio secondo voi per chi tifa Pasquale Higuain è una luta attenzione scusami Daniel Alves ha rubato un pallone lo dato a Di Bala ancora Daniel Alves è cross Higuain eccolo raddoppio della Juventus proprio lui proprio lui incredibile Gonzalo Higuain ha messo il pallone in rete per il raddoppio della Juventus ancora una volta assist di Daniel Alves questa volta è stato un assist normale diciamo così una cross dalla destra e nell'area piccola è arrivata la zampata di Gonzalo Higuain doppietta per lui il gol esattamente alla quattordicesimo della seconda tempo è andato in spaccata al limite dell'area piccola Higuain sul cross di Daniel Alves si è bevuto lasciato sul posto Glick che in acrobazia ha cercato di arrivare su quel pallone ma non ci è arrivato come non ci è arrivato il portiere Subasic sul tocco di sinistro di piatto di Gonzalo Higuain esultano tutti in questo gol pesantissimo eccolo qui Higuain eccolo qui anche ieri in conferenza stampa tutti a dire Allegri Buffon si va bene Higuain anche se non segna però lavora tanto per la squadra noi oggi fuori dallo stadio abbiamo fatto un sondaggio fra tifosi e la maggioranza ci ha risposto questa sera si sblocca veramente in una partita europea che conta Gonzalo Higuain ed eccolo qui il suo doppio timbolo sulla gara doppietta per l'ex giocatore che forse a Napoli ancora maledicono un po' però comunque al di là di qualsiasi considerazione tecnicamente è un grandissimo calciatore e la Juventus finisce per 2 a 0 e adesso sarebbe ancora in contropiede con Di Bala questa volta si chiude la difesa della formazione Monegasca e allora si gioca esattamente da un'ora qui nel Principato e dopo un'ora la Juventus è in doppio vantaggio 2 a 0 con la doppietta di Gonzalo Higuain 2 assist di Dani Alves e dunque quando siamo esattamente al sedicesimo 2 a 0 per la Juve ragazzi ma chiunque dica adesso uno può ti fare pensare Higuain ma negare che sia un mostro questo qui ma mi facevano troppo ridere ieri però non segna in Europa ragazzi un po' ne capisco di Higuain avendolo avuto come dire dalle mie parti per un po' faceva ridere chiunque criticasse questo qui 44 minuti 25 secondi manca poco al traguardo la Juventus è in vantaggio per 2 a 0 è importantissimo non subire gol in questa finale di partita attacca il Monaco tutta dietro la Juve tutti nell'area di rigore a parte quadrado e Di Bala che è proprio sul limite a fare la barriera parte Butigno il suo cross associato con poi testa alto ed è Buffon che con la manona ha alzato il pallone sopra la traversa decisivo ancora una volta Gigi Buffon su questo colpo di testa ravvicinato che è stato scagliato da Germain se l'hanno visto male pallone alzato in corner da Gigi Buffon novantesimo minuto adesso credo 3 minuti di recupero ancora 180 secondi di sofferenza per la Juve di speranza per il Monaco 2 a 0 per i bianconeri corner per il Monaco palla alta a centroarea palla cresta lì mischia Buffon Buffon blocca il pallone ancora una volta decisivo Gigi Buffon questa sera forse non ha fatto miracoli non ha fatto parate da sigla da trasmissione televisiva ma ha fatto 2-3 parate comunque difficili le ha rese facili lui e ha comunque tenuto la Juventus sul doppio vantaggio e adesso la Juventus nella metà campanze con Rincon ecco Leminà i nuovi entrati l'apertura di Leminà per Quadrado ha il rigore Quadrado entra punta al fondo c'è la possibilità per il cross Subasic va a mettere il pallone in calcio d'angolo ha cercato il colpo nei secondi di recupero della formazione bianconera un contropede orchestrato dai tre nuovi entrati Rincon Leminà e Quadrado Quadrado è andato via sulla destra da vicino alla linea di fondo ha cercato il cross ha trovato la deviazione del portiere in calcio d'angolo corner già battuto sul breve palla per Di Bala da questa Dani Alves ancora Di Bala all'indietro per Chiellini troppo indietro questo pallone deve ricominciare da capo la Juventus ma intanto trascorre nei secondi 46 e 20 manca un minuto e 40 secondi alla fine di questa canale andata dalla semifinale di Champions League in diretta su RTL 101.5 dal Principato di Monaco per Monaco-Juventus con la Juve che conduce per 2 a 0 Juve che è in doppio vantaggio grazie ai gol di Higuain ma grazie anche alle parate importanti di Gigi Buffon almeno 7.5 8 forse anche in Pagella per lui veramente decisivi i due estremi della Juventus Buffon e Higuain per entrambi 8 in Pagella nella serata del Principato di Monaco passa dei secondi se ne sono andati due dei tre minuti di recupero ultimo minuto ultimi 60 secondi Juventus in vantaggio per 2 a 0 e Monaco che tenta l'ultimo disperato assalto Mutigno sul settore di destra passa davanti alla panchina di Jardim parte il suo cross da tre quarti questi sono i cross di facile lettura per la difesa non ci sono problemi per Gigi Buffon che blocca la palla ed effettua subito il rilancio quindi può chiudere addirittura in attacco la Juventus con Quadrado che però gestisce controlla scambia con Dani Alves superata in campo adesso c'è spazio per Di Bala chiude l'attacco la Juve Di Bala non controlla bene riesce comunque a mantenere il possesso di palla il tocco per Mandzukic adesso rallenta Alexandro prova però a scusciare via forse va anche a terra non c'è fallo secondo l'arbitro e allora mancano 15 secondi lancio disperato sciabolata disperata da parte di quelli del Monaco ma c'è ancora Giorgio Chiellini a respingere di testa Falcao con le ultime energie pallone al centro ma recupera il pallone Dani Alves guarda l'orologio l'arbitro sono trascorsi 3 minuti ed è finita arriva il fischio finale la Juventus sbancca il principato la Juventus vince 2 a 0 in trasferta la gara ad andata della semifinale di Champions League una vittoria meritata una vittoria da grande squadra da squadra che può sognare l'Europa è stato fatto un grande passo ora servirà una grande gara anche al ritorno perché il Monaco già in questa Champions ha rimontato situazioni che sembravano comprovesse per esempio negli ottavi contro il Manchester City ma insomma la Juve sembra sempre più indirizzata verso Cardiff festeggiano i giocatori bianconeri invece Allegri va direttamente negli spogliatoi forse a scaricare la tensione che anche lui uomo calmo avrà provato e allora ribadiamo il finale qui a Luido di Monte Carlo la Juventus ha vinto per 2 a 0 e il grande protagonista almeno sul tabellino è stato Gonzalo Higuain doppietta per lui Reti al 29esimo del primo tempo e al 14esimo della ripresa ce li sentiamo il 9 quindi martedì prossimo da Torino per la gara di ritorno gara di ritorno che la Juventus affronterà dal doppio vantaggio grazie Fulvio Giuliani grazie Pio grazie Amedeo grazie ai ragazzi che hanno lavorato come sempre benissimo in regia grazie a Stefano Pretoni per l'organizzazione tecnica di questa trasferta e da Monte Carlo è tutto con la Juventus che ha vinto per 2 a 0 e adesso va a festeggiare sotto la curva dei tifosi bianconeri chiudiamo i nostri collegamenti dal Principato grazie complimenti alla Juve e buona serata a tutti voi da Monte Carlo e chiudiamo con l'urlo dei tifosi della Juventus per la Juve che ha vinto in trasferta 2 a 0 questa semifinale grazie a tutti buonasera da Monte Carlo